Buongiorno a tutti. La situazione sanitaria purtroppo ancora non consente un pieno rientro alla normalità, soprattutto per tutte quelle categorie di lavoratori cosiddetti fragili che sarebbero esposti a maggior rischio di contagio da Covid in quanto affetti da pregresse, patologie che in qualche modo li espongono a rischi per la propria salute molto elevati. Di questa categoria di lavoratori, cosiddetti lavoratori fragili, ci eravamo occupati con un precedente intervento spiegando qual è la procedura per ottenere il riconoscimento del status di lavoratore fragile. Ora sul tema è entrata la legge di bilancio 2021 prevedendo una proroga per il periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio delle disposizioni in materia di lavoratori fragili. In particolare tutti i lavoratori, compresi naturalmente i lavoratori della scuola, che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di lavoratore fragile tramite la visita da parte del medico competente o coloro che ancora potrebbero richiedere questa visita per questo riconoscimento, è stata prevista la proroga fino al 28 febbraio della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse da quelle del proprio profilo di appartenenza o a mansioni da svolgere in modalità di lavoro agile. La legge di bilancio quindi ha ripreso le disposizioni originariamente previste per questa tipologia di lavoratori e per i quali è stato anche chiarito per i lavoratori fragili che nel trattamento del periodo in cui gli stessi sono sottoposti posti in malattia d'ufficio perché non possono essere utilizzati in modalità di lavoro agile i periodi trascorsi in malattia d'ufficio sono equiparati a periodi di ricovero ospedaliero. Peraltro per il personale della scuola che come detto si trova collocato in malattia d'ufficio in quanto riconosciuto lavoratore fragile non si applica la cosiddetta trattenuta brunetta. Vedremo se sarà necessario però per il perdurare della situazione emergenziale una ulteriore proroga di queste tutele considerato che quelle introdotte dalla legge di bilancio andranno a scadere il 28 febbraio che è ormai alle porte e visto che ancora il covid non dà tregua. Vedremo se saranno necessari i prossimi interventi. Grazie. Grazie.